Siamo qua, questa sera, in mutuo, aspettando che arrivino il principe e il pirata, eh? Buona senape, buona senape a tutti quanti, amici belli. Buonasera, buonasera, amici, buonasera. Aspetta che... Sistemo stramlabals? Ah, eh? Samuele, grazie, grazie, Samuele. Sei molto gentile, buonasera, buonasera. Allora, dobbiamo ringraziare delle genti, delle genti, dobbiamo ringraziare. Natalus 99, grazie mille. Samuele l'ho ringraziato, dobbiamo ringraziare da Makuyasha Insumi, sa? Sì, quindi c'è Alex337711, Volevole Nullazzo, Piantissimo. Ayram, Marvash Magalli, e appunto poi c'era Samuele e Naldalus, grazie. Samuele! Oh! Samuele! Samuele, oh! Ma non era! Lo so, lo so. Era, ma che lele! Ma che lele! Che cazzo, c'è mia mamma entrata in camera e mi ha portato una penna dei Chupa Chups. E con sopra una zucca di Halloween con la molla che se gli deve un colpetto lampeggia. Che bella sorpresa, Morelli. Aspetta che però non vedono il gioco. Hai visto? Hai visto? Non tanto che c'è del bestiario di H1D. Non che vale qualcosina. Che bestiario c'è? Che storia! Tipo i giubbotti valono di 18 centesimi. Non tanto però. Cose... No, c'è una... Ma che cazzo? Ah, va bene, dai. C'è una camicia con la cravatta che vale 3 euro e 11. Ah, io l'ho venduta quella, sì, sì. Eh, no, la vengo. Once again, YGFIRT, grazie mille. YGFIRT, 8 mesi. Non ce l'ho là per i suoi amici, mi spiazzi, ma... Rimango molto... Eh, grazie YGFIRT. Ma... Mamma, tua mamma ti ha chiesto quando rimetto mare di olio per po', lo organizzeremo una prasera di... Ma è una penna incredibile però. Ma sei in trimoro magari. Sto entrando. Non in connecting. Appena arrivo a 1600 punti per quelle cose. Che se gli fai uscire la punta è una penna normale, altrimenti è una penna touch screen. Wow, io mi mangio una golia... Queste magie io non me le aspettavo. Al succo di frutta, vitamina C senza zucchero, caramelle e ripiene. Eh? È bravo, Marco. Ma perché è nudo quello? Ma anche io da poco sarà nudo perché venderò tutto. E allora partiamo, dai. Mi piace essere in nudo, voglio essere in nudo. Voglio essere in nudo, scusa. La fa. Bravo. Ma come la slantezza, porca puttana, ho ribaltato tutto. Che cazzo. Eeeh, sono proprio un bastardo, Marco. Eh, lo sapevo, sai. Purtroppo i server non ce l'hanno ancora attivato. Tecnicamente dovrebbe essere entro domani. E dai. Etchicamente. Ovviamente sarà domani alle 23.59 ci diranno avete il server. Esatto, arancia e limone. Arancia e melone. No, c'è scritto frutta. Allora, io volevo porre questo quesito. Marco si è comprato il pepe al limone, no? Sì, da tiger. Da mettere al rizzo. Che cazzo vuol dire il pepe col limone? Scusa, io se mi compro la maionese alla Nutella. No, perché quello non combaccia come sapore. Cosa vuol dire? Eh, capito. Il pepe col limone. Il pepe col limone, sì. Però non vuol dire un cazzo. Ma sì, è una spezia. Io le fanno apposta per rendere più... Allora, ma se il pepe è una spezia, non deve sapere di limone, deve sapere di pepe. Che cazzo vuol dire che il pepe ha limone? Sa di pepe e di limone. C'è anche la cannella, la paprika particolare. Tutte quelle di tiger. La cannella alla paprika? La cannella alla paprika. Non volevo dire cannella, volevo dire curcuma comunque. La spezia è bella, è una bella città. È proprio vero, Marco. Buono il pepe al limone. L'ho messo sul riso oggi, buonissimo. Che cazzo vuol dire, guarda. Grazie. Non si può. Cazzo è leon. E vedi che le prendono sempre. Sono quelle di tiger. Andiamo. Buonissimo. E andrei. È che tiger ce l'ho lontano da casa, se no ci andrei tutti i giorni a prendere quelle spezie lì. A Venezia ci sta. Ma che Venezia di staminchiù. Andiamo a Venezia, ci sta. Ma che Venezia. Ma che Venezia, Marco. Io vado a Venezia. Ma che cazzo. Ma la viene più di casa. Ma non ci si arriva. Ma ci si arriva, dai. Fate caccare, fate. Non ci si arriva. Sotto l'aereo. Non vi vedeva comunque che era sotto l'aereo. Beh, più o meno. Ma veramente, sta diventando uno della cucina bioevolutiva che mangia le robe che non sa di un cazzo e deve metterci la merda sopra. Sotto lì sopra di qualcosa. Sotto lì. Scorso di coni e non gli uke. E grazie. Grazie mille. E mangia come si deve, coglione. Io sto mangiando come si deve, sei tu che sei un ciccione di me. E però mangio come si deve. E non mangi come si deve, ti viene un infarto, ti viene. Ma sì, ma muoio felice. Ma è possibile che siamo rimasti a 60 anni. Anche io, è buono quello che mangi. Ma il cazzo è buono, ci metti il pepe al limone. Il pepe al limone nel riso è buonissimo. Cosa ne sai, non l'hai mai assaggiato. Perché non sapevi cos'è. Tu mangi il pepe al limone, non è che mangi il riso. Il riso col pepe al limone. Senti, mangia le robe chimiche, il pepe al limone e poi fa bene. Sicuramente fa bene. Non è chimico, è spezie vere. E certo, come fanno a farlo saper di limone il pepe. Che il pepe è una delle robe più forti del mondo. Perché c'è dentro, ci sono dentro le granellini. Ma che cazzo dici, granellini di limone? Siete in video? E mangia la pancetta alla pancetta con la pancetta. Eh? Non ho capito. È il primo morto, quello lì, che è venuto fuori scritto. Siamo già in 67. Com'è possibile? Che è una disgrazia. È bastanto. L'hai precipitato l'aereo. Buonissimo il pepe al limone. È lui che è ignorante, non lo sa. Si si grane lì al limone. Ma poi si beve la Monster, questo qui, che dice Eh ma è quella senza calorie. No, l'ho mai più bevuta dopo quel giorno lì. Eh certo. Ne ho bevute 6 litri quei giorni. Che mattina. Ero bevute perché è vero. Eh sì. Ne ho bevute 6 litri e poi ho detto forse è troppo. Aspetta. Il giorno prima ha mangiato le gallette di riso, l'avocado che non sapeva come cucinarlo. Il giorno ha mangiato la peggio vera. Ha mangiato la peggio Monster. Ha mangiato la peggio vera. Vabbè, è quella senza zuccheri però dai. Che senza zuccheri cos'è? È buona, sa di fanta blu. Capito, ma infatti è buona. Mi credo che non è buona. Senza zuccheri vuol dire che ha dentro qualcos'altro per l'altro ciro. Infatti, infatti, probabilmente c'è la merda. Eh. Sì, ci sono proprio i broccoloni dentro. Perché mi piace mangiare. Ultimamente sto mangiando bene. A parte la Monster. A parte la mozzarella. Il tuo lato casco è livello 2. La sto mangiando da un sacco la mozzarella. A parte nella pizza. Però la Monster sì. Non la sto più bevendo, giuro. Hai sentito in colpa. Eh sì, poi dopo quelle volte... Ma guardate che è in colpa. Grassi non ce ne sono. E che fa male. Gli zuccheri ci sono comunque. Anche se non c'è lo zucchero... Ci sono cose peggiori. Anche se non c'è lo zucchero saccarosio. E dire saccarosio però... Un nozion. Tanti kit medici qua. Ho sbagliato, ho preso una camicia. Comunque c'è qualcosa che non va perché ogni tanto il texto non le carica. Ma te non te le carico. La polizia vestigliola 3 ci ha messo un po' a caricare la texto. Solo quella. Ma da tempo che non la trovavo. Il peppa limone è quello di Tiger comunque. Si trova da Tiger. Ma tutte quelle spezie lì sono da Tiger. Pazzo di armi di merda. Per chi volesse prendere sono lì. Io ho preso anche la paprika. Anche se la devo ancora provare. Vabbè sta di paprika quella lì. Servono apposta per dare un po' più di sap... Tipo io che sto facendo la dieta... Servono per speziare. Sì. Ah la polizia. Perché sono un po' più particolari del normale. Io che sto mangiando spesso il riso magari così tacchino. Dopo un po' ti rompi le balle con le spezie cambia un attimo il sapore almeno. E poi guarda che è da lì che si iniziano a drogare gli atleti eh. Una macchina? O è un camion ferro? No è vero. Un camion ferro? No c'è da lontano lo sto vedendo. Dobbiamo andarcela poi. Vedere? Se eravamo a Venezia eravamo dintrissimo. Eh vi l'ho detto. Eravamo morti. Non eravamo morti. E viti gravemente. Quante bevande però. Io ho solo kit medicine invece. Erano solo due piccini. Ero 4 energy drink. Da casa. Noi 747. Era un camion comunque. Ma è un aero 747. Boing. Boing boing. Grazie mille. Giù in di bici. Grazie grazie caro. Comunque questo qui era uno zaino. Era un camion. Io non ho armi. Ho una pistola e basta. Ti do l'OMP. Io ho anche l'OMP e la K. Beh l'OMP mi farebbe come un'altra. Magari è pieno di colpi qua per l'OMP. Io guardo queste case e scappo via verso l'oltretomba. Cerco la mostrera al pepe da Tiger. Che schifo sarebbe tocca. Ok andiamoci. Magari è buonissima eh però. Le patatine al pepe rosa e lime. Ah livello 2. Ah quanto vorrei fare la challenge con la balestra. Ma non la farò. Quest'altra volta abbiamo fatto le notte le challenge. Sono andate anche abbastanza bene. Cosa ho preso? Una del veicolo. Le altre no. L'OMP ti droppo qui. Dove? L'OMP. Scusa. Ma qua. Non so la strata te l'ho messo. Metto un punto tipo qua. No tanto i colpi dovrei averli. Sì comunque lì da... Beh poi non ci sono solo da Tiger eh. Cosi con le spezie. Che da Tiger ce ne sono di un po' più particolari. Magari se vi volete sbizzarrire un attimo. Ah fì. Tipo appunto pepe a limone. Ma i liutani sono da. Ma questo coso è lootato qui. Ah. Cribbio siamo tutti morti. E' pazzino. Magari c'è gente qui sotto. Andiamo a spararli. Se qualcuno ha il cecchino poi io ho l'extender. Che lag. Con il 200 di ping a caso. Marv. Grazie Marv. Grazie Marv. Grazie mille Marv. Buono. Io c'ho il caricatore per il cecchino. Io ho l'extender. Sì ma infatti siamo già in 33. Non è ancora partito il gas. Eeeh vabbè dai. Questa è vinta. Boh. Corro corro. Corro corro. Veramente non troveremo nessuno. Prova a venire anche un po' qui verso di voi. Magari che... dobbiamo trovare una macchina. Ciao Abby. Bella. Abby B. Sì c'è una mappa buggata Corro vedrai. Non so se sono crashati ma mi sa che hanno un po' di problemi che erano in questi giorni. Mi sa che crashano a caso. O magari partano le... Non ho visto quanti siamo partiti all'inizio. E' partito il gas. E' partito adesso. A poco. Ma infatti dobbiamo andarci. No io sto già andando verso il blu. No ma dobbiamo prendere la macchina. Ma sì ma il primo caos. E adesso fa più male eh. No il primo no. No il primo è uguale. Poi dopo più sei lontano dalla safe più ti fa male. Sì. Io verso il blu ci sto andando subito. Poi al massimo mi fermo... Mi fermo lì vi aspetto però. Vabbè vedi. 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 Signor Tostapane 12 ore. Grazie signor Tostapane. Un anno di noi. Grazie. Cuoricino cuoricino. Vedi se c'è una magna piuttosto Mar. Qui ce l'abbiamo noi Mor. Allora fa un chiulo. Medikit completo. Ottimo. 21 ma io non vedo. No vi aspetto qua in questa casa allora se avete il mezzo di trasponditore del cosino. Ce l'avevo? No. E dammi il tempo. Sai che sono in doppia fila. Oh buono. Buono buono. Non si sa perché siamo così pochi. Dovremmo vedere quella prossima. Prima ho giocato da solo un attimino per ripenderci la mano così al volo e c'è la gente. E' strano eh 30. C'era tanta gente. Siamo ancora il primo gas. Perché appena atterrati eravamo in 60. Uh buono. Ottimo. Per 8 e per 4. Eccoci. Andiamo poi. Vediamo il blu. Beh allora continuo a lottare qui. Ho trovato la patella. Bravissimo. Ho vinto. Controlliamo che sia singolo. Ok. Happy Bird Day tuyo. Eh tanto c'è un 2k dell'altro l'ha lottata Mark. Un 68. No l'ho lottata una io comunque li ha già. Ah. Forse due. Quella più lontana. Ehm andiamo su. Vengo a prendere su una macchina. Qua sei tu more ok. Veloce è proprio perché le bel gas. Arrivo. Con le gran munizie qui. Dopo se volete un po' di drink ne ho 11 in totale. No io dovrei averne 2 sì infatti. Io c'ho 1 e 2. Qua c'è un'altra padella. E' un altro per 4. Eh beh devo andare però. E' qui. Poi magari dammene uno a me Mark. Yes. Ma dopo che sono visto. Yes. Tomoro vieni qua. Veloce. Questo lo butto anche se. Vai. Voliamo voliamo. Voliamo voliamo. Vai al blu giusto per. No ma seguo la strada proprio non rischiare. Sì. Tanto la GPU mica si cappotta. No. C'è. Marco indiglielo tu. Fatta apposta. Io lo potrei mettere la webcam per le live. Perché non ha senso che lo faccia solo io. Essendo un canale di gruppo quindi. Eh no. Poi magari se facciamo. Qualche serata. Robe così particolari. L'avevo fatto una volta su Rocket League. Ma perché eravamo in pochi. E lo avevo fatto così per liberare. Ma se facciamo cose particolari lo faremo assolutamente. Già lo facciamo in Pathfinder quindi. Eh tra l'altro la live di quella che avevo fatto con la webcam. È perché avevo fatto vedere le robe di Star Wars. Quindi. Esatto. Andiamoci un po' più lontano da qua. Aspetta chiamo dove si resta. Però sì io la webcam ce l'ho. Quindi volendo lo posso fare. Ok. Ehm. Vai qua. Magliallo. Tipo 3G towers. Eh no. Eh lì l'affacco. Eh ma il problema è che se ne metti una. Tecnicamente dovresti metterle tutte. Dove poi il gioco dove lo metti. Eh qui erano aperte. Ok. Sì ne ho vista un'aperta. Sì è aperta anche a chi. No no dobbiamo andarcene molto più lontano. Sì andiamo via. Dobbiamo andare lì al verde. Vediamo. Ah finendo la benzo. Vabbè ma intanto tra un po' potremmo anche iniziare. Però io la penso. Ah. Ah vecchio. Il king delle bestemmie su 3G tower. Sì. Eh sempre sono i Vegas ragazzi. Quello che usa i notti per mettere. Cioè lo fa Hangout però sì lo fa. Sì questo in teoria sì. Quindi sono qui dentro. Vi sparo. O sono qua dentro o sono qui. Non c'era nessuno. Non c'era. Neanche lui. Colpi. Uno zaino. Due zaini livello 1 ma non ce n'è bisogno. Non vi serve nessuna bevanda? Eh io ne ho due. Ah no. Non ce n'hai in più così. Troppo. Ma bevo ora ma bevo. Vuoi anche te Moro? Eh sì. Troppo. Uno due. Troppo. Bere? Eh? Sì bere. No vai. E' già in venti. Tra l'altro amici cosa fate domani all'Halloween? Eh? Domani è l'hanno. Andiamo a prendere il sidecar. Ma che cazzo di idea. No vabbè se la pensa ce la abbiamo. C'è un più casino. Siamo veramente 18. Marco tu cosa ti vesti domani? Da Marche dei termosifoni. Io da casalingo. Siete veramente tristi guarda. Siete veramente delle persone tristi. No vado fuori. Un personaggio un pochino conosciuto lo posso fare il cosplay. No. Ma non è cosplay poi cretino è Halloween. Ma io non l'ho mai fatto Halloween quindi no. Ma che tristezza come non hai mai fatto Halloween? No ma non festeggio. Ma poverino. Ma perché poverino? Si offende? Potete donare a Mark. Sto benissimo. Dei soldi per rendere la sua vita un pelo più felice anche se ormai è completamente rovinata purtroppo. Ma non sono uno che festeggiano. Dice di essere felice perché purtroppo. C'è tipo anche il Natale mi piace un sacco ma in realtà. Ma dai Mark non parlare. Sono triste e io. Ma è bello. È bello. Ma mi piace un sacco. C'è mi piace un sacco il Natale. Non mi va di fare le cose di Natale. Ma si ma c'è questo qui non gli piace Halloween ma gli piace un sacco. Ma che cazzo vuol dire? Ma cosa c'entra Halloween ho detto Natale. Eppure Natale non gli piace ma gli piace un sacco. Un sacco e non il Natale mi sembra. Anche perché Babbo Natale usa il sacco comunque Natale. Io te lo ricordo Morelli quindi. Ma io ho qualcuno con cui uscire. Ma che cazzo. Niente dai. Ma non è che io non esco perché non ho nessuno con cui uscire. Non festeggio. Anzi probabilmente esco lo stesso ma non festeggio Halloween. Ma senti questo uomo di merda. Allora. Ma anch'io amo il Natale. Andiamo. Andiamo lì. Andiamo le case quali chiamate. Essere altri non vuol dire non festeggiare il Natale. Sì. Beh tecnicamente ha senso quello che ha scritto. Però ha senso ma anche no. Dove vai Mark? Morelli. Sto guardando non c'era un caffè. Grazie a Gillidun. Grazie a Gillidun. Grazie mille. Volemmo andare. Dove vogliamo andare? Pocinchi dai. Così moriamo. Ma perché? Andiamo. Andiamo qua allora. 18 quindi boh. Andiamo al verde e poi al blu. Vediamo. Dilo così? Va bene. Ciao. E' pazzi. Buono il pepe al limone comunque. Lo consiglio a tutti. Perché vorrei. Oh finalmente una seconda arma. Cacca. Devo ancora darti l'UMP è vero? No ce l'ho dato. Gli ho dato io. Gli ho dato. Un'altra. Un'altra energy drink. Ciao Sarella. Ciao Sarenella. Ah qui si è entrato già. E dai. E qua che cazzo? Non c'è niente però. Niente. Non c'è niente però. Anche io c'ho un botto di medica. Ho 5. Anche io ho 5. Poi andiamo al blu. Dai che è anche nella safe. Ehi. Chi l'ho appena trattato? Margo quanti kit medici hai? Ho uno completo e uno normale. Ma sei un poraccio. Povero. Poi te li do per pietà. Sputtandoci sopra. Poi ho la k. Un 2x. No è che non sono mai stato abituato a festeggiarli. A essere felice. Ma in generale non sono uno che ama molto festeggiare. Cosa vuol dire? Eh no. Ti devo dire la verità. Se noi non andiamo a festeggiare. Eh no. Vedi ami essere triste. Ma no. Sono felice. Festeggio ma a modo mio. Cioè. E cazzo. Ti piace il loro festeggio? Sì ma non festeggio nel modo classico. Non me ne frega di abbellire. Fare gli adobbi. Qui hai esplorato qua dentro. Lì ho esplorato sì. Occhio è che siamo solo in quattro anni. Ma anche tipo anche ferragosto. Ma che c'entra ferragosto? Ma per dire sono quelle cose che le fai mangiare. Ok. Eh bene. Festeggi mangiandoli. Ma anche il compleanno per dirti. A me ne frega niente. Fida allora. Uomo triste. Ehm. Ce l'ha troppo sopra la montagna qua? Ce lo faccio agli altri perché so che ci tengono. Ma io non. Non è che per essere felici devi festeggiare Korn. Vedi che sei proprio stupido e ignorante. Però non è che. Cioè festeggi perché sei felice. Sono felice ma non faccio. Magari non lo faccio vedere come altri. Semplicemente. Ma qua ci sono altre munizioni. Ma che bello. Ah lui dice Magari non si aspettano le festività per festeggiare. Dice lui hanno sparato. A parte che è vero anche quello. È verissimo anche quello. Non c'è bisogno. Bene ma infatti io festeggio ogni giorno della mia vita. E festeggio la vita. Anche io ma non che faccio le feste. Nel senso che faccio gli addobbi. Sono felice. Gli addobbi ogni giorno. Parano da nord ovest. Viva la vita però. Eh capito. Nord ovest hai detto? Sì. Parano da nord ovest. E non ho mille. 14 è incredibile. Eh infatti siamo in 14. Sono veramente pochi. Non avete voi un 4 perne o un 2 perne che vi avanza? Se avanza no. A parte del 2 perne fareste comunque una scelga. Sì sono più tranquillo. Non sono quello che. A parte che ci sono dei video che. Anche io sono preoccupato. Non è che sono preoccupato perché non festeggio. Ci sono dei video di qualche sera fa che invece dicono tutt'altro quello che sto dicendo adesso. E infatti l'altro giorno non hai. A parte che l'hai festeggiato. Era ubriachissimo. Vabbè ma ogni tanto. Non è che sempre. Ma senti. Senti sto coglia. Che fa tanto il pardone. Ero nudo sulle scale. Ero nudo sulle scale a fare tittiri tittiri con la musica di sottofondo. A sventolarci la scella. Vabbè ma capita ogni tanto. Non è che. Allora non vuol dire. Stai festeggiando ed eri più felice del solito. Vedi? Sì ma nel senso che non lo faccio per forza. Come una cosa che. Che cazzo vuol dire? Che cazzo che non lo fai per forza. Non è che ci deve essere qualcuno. Può capitare ma non è che. Che cazzo vuol dire può capitare. Ma stai zitto. Ma tu. Ma vuoi andare. Ma vuoi andare al blu che moremo tutti qua a fare un po'. Festeggiare. Adesso per una volta che mi so spogliato e mi ho fatto le cose. Franci tu stai zitto. Non dico niente. Ma io non bevo. Allora io l'ho detto anche a Moro. Non c'era bisogno di prendere la macchina. Ma sì siamo anche un po'. Ma no ma c'è un cerchietto cosa. Eh sì. E appunto che siamo in pochi cosa vai con la macchina che ti sgama. Eh ma non c'è andare con la macchina che ti fai sgammare subito. Io non bevo niente. Quindi se io bevessi sarei ancora peggio. Cioè pensa se bevessi qualcosa. Ho bevuto il tè eppure niente. Ho bevuto gli zuccheri. Ragazzi non ce la facciamo. E gli zuccheri effettivamente sono una specie di... Come non ce la facciamo. Anche a 28 secondi. Sì impazzito. Ehi che cazzo dici. Sparecchiano. Stiamo più che altro attenti che non ci sia qualcuno sdraiato e che non vediamo per la pioggia. Vabbè vediamo se muori qui. No 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 io non bevo nulla ragazzi. Non è che neanche un brindis. No mi fa schifo l'alcol. Non bevo nulla. Neanche il bacchina di breezer si beve. Ma che b... Ma che dici? Ma che b... La Coca Cola è il massimo. La Coca Cola è il top. Wallyu. La Monster. Che non l'avevo più ormai. Vai ho deciso. Resistenza Marco. Wallyu Marco stai attendo che... Però qui avere il perotto. Però sei. Prendete tutto. Prendete gli energy drink. Io il perotto. Tu moro che non me lo bevo. Fammi bere un energy drink che ce lo sei. Comunque non è alcol. Non bevo neanche quello comunque quindi. Io le case qua. Che cacchio col perotto però. Eh che franno qua lento. Ho messo qui il... Ah gente ha le case. Sì? Beh guarda lui sta entrando adesso nella casa. Boh sì. Quelli sparate. Oh. Mi hanno mancato. Stiamo giù. Stiamo giù. Stiamo giù. No. Mi hanno colpito. Non ti hanno mancato. Quindi io vado dietro di qua. Ma che cacchio. Non capisco... Occhio Mor che uno era nella casa lì. Eh lo so. Speriamo non mi veda. Ah cazzo l'ho visto. E' nella porta. No è qua a nord. Ah l'ho visto. E' l'ora però. Non capisco dov'è. Eh scusa. Marco mi devi venire a tirare su. La VM mi ha uscì. Eh sì. E' quella la casa anche. Ma... Allora non solo mi ha ucciso subito. Lo possono vedere in live? No no no. Ho sparato perfetto a uno. Non gli ho fatto niente. Anche con... Alzando leggermente più la mira così arrivava. Con le ultime patch. Hanno sminchiato un attimo. Non so se le hitbox. E non mi viene a dire che... E' smirato. Perché non era smirato. Era solo spostato un po' di più per prendere le robe. No ma... Succede che spari e non colpisci a caso. No. Quello che mi hanno... Mi hanno sciottato perché mi hanno sciottato. Io non sto... Non mi sto lamentando perché sono morto. Mi sto lamentando perché non ho colpito neanche una volta quello di fronte a me. Sono morto perché è giusto che sono morto. Ma... Non è possibile che non l'ho colpito mai. O mezza volta comunque. Non è possibile. Non è vero. Troll Axel. Non è vero. Ho semplicemente alzato un po' di più la mira per far arrivare i colpi. E basta. Ho alzato leggermente in più la mira. Comunque grazie a Phantom. 5 me. Ho capito ma avevo il per 4 ho alzato anche la mira. Cioè ho capito che ero un po' lontano ma... È comunque un mitra. Allora se il mitra non ha... I proiettili scorreggiano e si ammociono dopo due secondi. Che mitra è? Scusa. Eh due volte l'ho colpito. Io gli ho sparato 67 volte. Che due volte l'ho colpito sinceramente frega niente. Poi è vero che il per 4 da lì non era neanche comodissimo. A parte che... Cioè con l'UMP non andrebbe mai messo neanche il per 4, il per 2, né niente. Andrebbe messo... L'Azro. Grazie no Romanno. Grazie mille. Comunque vabbè. Ok stiamo partendo in 90. Mi fa cacare l'UMP. Vediamo un po'. Beh 90 non è così poco. Eh no però prima quando siamo attelati eravamo già in 60. Vogliamo andare... Qua? Poi andavamo in giro scoperti. Cioè eravamo dietro le rocce. Siamo proprio morti quando eravamo dietro le rocce. Cazzo perché dovete scrivere le puttanate? Io non lo so. È troppo vicino all'aereo forse. Andiamo al verde lì. Andiamo al blu. Andiamo anche al blu sì. Ci sta anche lì. Eh ormai siamo partiti gatto. Adesso vediamo se moriamo subito magari sì. Eh sì. Però ormai gatto questo è vinta quindi. Però secondo me per quanto sia da media corta distanza all'UMP non è possibile che i colpi cadano nel nulla. Cioè era comunque davanti a me. Prenderlo con due colpi su 60 mi sembra un po' strano. 60 per dire. Comunque per un po' di colpi. Perché poi il fatto che sono morto ci sta. Perché era lì con... Col cecchinone. Quanta gente ci è? La sua? Sì. Sì. Uno. Ne vedo e basta. Dietro di noi. Non ne vedo neanche uno io. Ha girato un po' però sta andando... Sta andando alla casa quella grossa lì dove c'è... La botte dell'acqua. Proca. Ma... Però ce n'era da solo? Sì era da solo. Magari sono... Non sono... Non stanno parlando. Sono semplicemente... No ma adesso comunque ho tanta... Ho perso un caccolino di vita. Però veramente eravamo partiti in pochi la partita da voi. Vabbè dai. Lo vado a uccidere. Ok. Meno uno. Ecca! Ehi! C'ho l'u... C'ho l'u... 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 Dove stai? Dove ti trovi? L'u... Mi ritengo. Non si sa mai che... Trovo uno mp. Faccio la sua presione a questo. Dov'è? No. Dov'era? Che paura! Yes. Irlandaro. Sei mesi. Grazie mille. Irlandaro? Eh yes. Oh ma questo? C'è uno. M4. No l'ho trovato l'm4. Non l'avevo visto. Credo sia sceso qui. Sennò... Dai io l'ho visto... Sì l'ho visto atterrare lì. Io non l'ho proprio visto. Ho visto proprio l'ultimo atterrare lì. Non sento passi e non sento niente. Magari se n'è andato via. Ha veramente non ridotto un casino il luto delle armi però. Ehm... La Russia. La Russia. Grazie mille. Non so che dire se non che vi si vuole tanto bene o meno di 3. Grazie mille. Ah. Niente. Solo pistole sto trovando. E boh. Non c'è qua. Eh niente. Non stare lì a perdere tempo. Lo tempo sto lutando. Ah bella. Safe. Ok qua vicino. Pieno di bevara. We are. The loot of the nation. All one. Cosa hai detto Lieve? 2MP. Piccolo robottino era diventato. Vai l'ho dato già qualcuno mi sa. Yes. Io sono stato io. Infatti. Che parli che il salto è una merda. Mi piace un po' né a fare i videogiochi. Mongoloidi. Di PUBG. Poi hanno trovato una sedia. Ho la K. Mappa. E' in zomma. E' in zomma. Se moriamo qualche anno. Ma è ormai. Eh siamo partiti in tre adesso. Se moriamo subito. Ah. Ne hai detto veramente 30 secondi dopo che siamo partiti. Ma stia ma io non ho lo zaino. No Raffae è aperto. Quindi è andato qui. Ma mia sono alla caccia. Non ho uno zaino. E' un stupido. Eccolo. Posto così. Dai grazie. Sì è già andato via da qui. Moto spostazionamenti. Sì stia moto. Prenditi un pompo almeno. Non rimanere con le pistole. C'ho l'OMP e la K. Ok. Meglio di così. Qui c'è un... No l'S12K niente. Lo strunz. Non ci sta. Non ci sta mica qua. Gente lo stai cercando ancora. Se l'ha scappato via comunque dai compagni. Lo strunz. 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 Chi era quello là? L'allenatore lì durante la conferenza stampa. Perché prendono sempre questi caricatori. Malesani? Può essere. L'altro avete visto oggi c'è stata la conferenza Sony PlayStation. Hanno presentato i gran giochi. Esatto. Era già in singola. Hanno presentato quasi un cazzo. Hanno fatto vedere di più di quello che si era già visto. E qualche giochina in più. Nella sto fase 2. Ghost. E non mi ricordo. No. Ah tra pattoni diceva strunz. Malesani diceva un'altra roba comunque nella conferenza. Andiamo verso la serf. Che tentazione. E dai. Andiamo lì. Qua c'è una casa gigante. Aspetta. Quella che ho già lottato io. Già lottata? Eh sì. Sì è già lottata. Come non c'è l'audio del gioco Marco? Come non c'è l'audio del gioco? Cosa? Va sparato. Sì se non c'è l'audio del gioco non c'è neanche il nostro. Non è possibile gatto. Il massimo è basso quando apro le porte ma c'è l'audio. Ma tra me credo mi si sia un po' abbassato il volume. Non so perché. E gatto che sordo. Che stronzo. Sapevo io. Non c'è mica la colonna sonora. Non l'aveva detto nessuno fino a adesso. Sì fate. Non l'aveva detto nessuno. È stupido. I commenti di merda. E poi non son veri. Sì che si sente l'ambiente. E non sa certa. È più basso magari di quello così tu. Ma l'ambiente è che non c'è l'ambiente. No l'ambiente magari intende l'herba e queste cose qua. Ma si sentono. Ho capito. Anche perché già parliamo sopra. Si sente anche troppo l'audio del gioco. No ma va benissimo così infatti. Guardate chi sentono gli spari. Quelli si sentono. Ma l'ambiente no. Cioè i passi. Se si sentono i passi. È quello l'ambiente non c'è nient'altro. È quello si sente quello. Sono bassi. Non c'è altro audio su. Tu le ha messo impossibile. Semplicemente tu la tieni più alto gatto. M4 o l'UMP? Ma come no? Si che si sentono. Si sarà mai. Andiamo a vedere. Jolly Roger. Grazie mille Jolly Roger. Grazie. M4. Guarda bene. Metto così. Ho lasciato giù l'UMP. Se lo volete. È basso ma si sente. È basso ma si sente. Ma li sento gatto. Io registro quello che sento nel testo. Se lo sento io si sente. È semplicemente più basso del normale. Ma si sente. Se vuoi te lo alzo anche un po'. Ma... Giuro che lo si sente. Semplicemente magari in alcune cuffie lo sentite meno. Marco devi smettere di dare retta alle persone che scrivono in chat. Guarda che si sentono. Sono molto bassi. Ma lo stanno scrivendo? Basta. Si sentono. Stop. Fine. 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 Ma ho sentito adesso anche gli Ezar che camminava quindi. Vedi che sento? Vedi che sento? C'era me che... Occhio che qua c'era un Tomy Gun senza colpi. Era il mio e era. Fa come? Si fanculo. Per l'assordente ce lo... Qua c'è un UMP. Qualcuno vuole un UMP e prende la munizione. Io ho solo 30 colpi delle cose, dell'M4 però... E che vogliamo fare? Andiamo là e che c'è anche una macchina. Con la K, bene o male. Si ragazzi si sente. Basta, basta scrivere si sente, si sente. Ho capito, basta. Ma alcuni lo sentono un po' più basso semplicemente. Perché non hanno alzato il volume. Ma c'è un primo livello 2 comunque. Un crossbow. Quasi quasi. Ho rimetto il livello 2? Si. Siamo in 59. Adesso non stanno calando per niente invece. Abbiamo meno roba di prima. Perché poi abbiamo 700 mirini. Prima siamo partiti in 67. Sì ma siamo proprio partiti in 67. Cioè. Ho iniziato la partita. C'è un M6. Moro tu che armi hai? Io l'M4 e l'MP. Quasi quasi ti lascio le munizionette dell'M4 e lo butto via. Ma c'è un culo. Eh ma c'ho 30 colpi. Piuttosto prendo la doppietta che mi piace di più. E che cazzo... Io ho lasciato giù l'MP con... E che altra ormai? La K con i colpi quindi. Eh dove sei? Marco vedi una di quelle case c'è l'MP con 140 colpi. Ma non lo voglio l'MP. Eh però. Prefisco la doppietta io. Ma... Da vicino prefisco la doppietta. Cioè è vero che puoi mancare... Blah blah blah. Però se colpisci è giù. Ti tengo i 30 colpi per te moro. Mi tengo la K io. A parte che da vicino posso usare anche la K volendo. Basta mettere il fuoco rapido. Era fuoco rapido. Era... Sui Pokemon. Una mossa. No. Fuoco rapido era su Kod al massimo. Ah si arriva il gas cazzo. Fammi salire la montagna. Porca paletta porca. Ehi ehi. Ehi ehi. Brucia. Ehi. Dobbiamo già correre perché... Vabbè non è tantissimo. Vabbè ma per sicurezza. Volendo c'era la macchina che è nel gas. Vabbè. Vogliamo prenderla lo stesso? No vabbè ce la facciamo. Vabbè ho fuso le cose. La prendo lo stesso io. L'ho fatto. Ah eccola lì. Dovrei farcela. Bisogna anche andare a prendere la magna. Vabbè per sicurezza. Troveremo un'altra e non troveremo al massimo. Un attacco rapito. Bello. Domani Marv. Ma che minchia è quel simbolino del pulsante della tastiera? Adesso. Di fianco ai nomi. La tastiera? Sì su Twitch. Ah sì? Non ci ho fatto caso. Tipo ce l'ha Marv ho visto. Ce l'hanno anche altri. Allora. Non ci faccio caso. Qua... Vieni Morelli. È tutto aperto. È tutto aperto. Un attacco rapito alla bossa del Team Rocket dei Pokémon. Aspetta che mi curo un attimo. Strappandomi i pantaloni. E dai. Ah era già al massimo. Arriva. Stavo per venire a prendere poi vi sono accorto che eri di fianco. Va bene corno. Allora mettetemi un punto. Vabbè andiamo presto e metto il verde così. Vado in save. Poi vediamo. Ah che sparo. Sono nelle casine lì. Stanno sparando. E noi ce ne andiamo. Questo era un... Secpass. È nelle case lì davanti. Andiamo più avanti. In queste qui vai. E vai Marco che siamo imbattibili. Sì dai. Tolgo il verde che mi dà fastidio. Che spinta. Ho anche un po' di munizioni della K da darti io Marco. Ok. Qua c'è... M16 con 30 munizioni. Vabbè le prendo poi te le do insieme alle altre. Yep. Oh ma granita. Sai che forse mi tengo il mini Uzi a sto punto qua. Quando ho fatto una live di Worms. Mai. Mi tengo il mini Uzi va. Che da vicino è buono. Le live di Worms non le facciamo. Le facciamo di... Facciamo solo i video di Worms. Effettivamente la doppietta va a un po' pochi colpi. Marco e vieni a cavaro. Eh scusami se non mi avvisi. E dammi l'altri. E grazie. E' proprio una supporter a Sassaved. Ciao Sass. Ma che schifo Star Wars Turco. Io ti pensavo una brava persona. Hai rovinato tutto. Allora qui dobbiamo stare attenti. Un po' di tatticismo. Mi raggomando. Mi M16 H&M. No no. Mai nella vita. Con quei pochi colpi poi. Tanto comunque userei sempre la K. E da vicino vicino almeno mi tengo. Appunto una roba come il mini Uzi o... Oddio. Oddio. E l'hai visto. L'ha visto. Ha visto dove? Niente lo devo prendere amici. Dov'è? Lo devo prendere. Niente. Grazie a Frank de Rossi. Due mesi. L'ho preso. Niente. Eh ormai l'ho preso. Eh Morelli ormai è andata. Ma io non ho Medikids. Stavo guardando adesso. E' iniziata dalla spina. Ne ho tantissimi. Ma ormai non te li posso dare. Era livello 3. Ho visto bene. L'ho visto malissimo. Schiaffeggiano. E' sempre Morelli. No quello in fondo non erano Morelli. Ma ancora che c'è il VSS? Moro ti spacco la faccia. Cosa vuoi? Cattina. Cosa c'è? Mi stavi per sparare? Non la conosco la tua faccia da sparo ormai. Cazzo sì sì. Ma cosa c'è tu? Eh l'ho trovato. Madaglia mia guarda. Ma hey hey hey. Pure stanno sparando come le mie dei drebbi laggiù. Canata. Moro. Moro via. Mi ha scatto la granata. Ma vai tirarla dall'altra parte. Mongolo. L'ho tirata da te. Ma che cazzo vuol dire? Vai via mi dici. Ti voleva salvare dal danno che ti stava procurando lui. Ma capito ma non me l'aveva ancora tirato. Se ne andiamo che è pieno di spari. E io il VSS ormai quindi siamo persi. Però ho trovato il Medikids appena ho trovato. A ovest stanno sparando Marco. E non è a ovest non più. Tanto stanno sparando. No è tipo a 210. È a sud tipo. Eh sì è a sud ovest. Non mi stanno questi strunti. Esplosa qualcosa lì. Esplosa la macchina lassù in cima. Spara a caso col VSS. Hanno sparato. A pallonetto. Hanno sparato proprio verso di noi. A parte che fanno mettere 200 di ZERO ING. Hanno visto il VSS. Non si può sparare. Come era con Pagesù? Lo ZERO ING non si può aumentare sul VSS. Ma che cazzo aumenti lo ZERO ING che non serve a niente. Ma siamo già nella safe. Quindi a questo punto lo andiamo qua. Vabbè. Stavo cercando di prendere la bottiglia di vino. Perché mi sembra... Io prendo la granata perché la bottiglia di vino... Con un panino. Poi è la fine del mondo. Eeeh. VAAA. Mi manco un mirino. Vabbè lì. Caspita. Hai visto che temole. Fammi chiudere per sempre qua dentro col mio VSS a morire. Ah vedi. Munizioni per il VSS. Le ho finite. Perché avevo ancora... Ah ho trovato il suppressor per l'SR. Ma non ho l'SR. Niente in realtà. Son pieno e basta. La briglia SR. Non ho. Oh pipo. 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 Ribipo. Ah una K. Cribbio. Però ho l'M4. Quindi me ne sbatto. Arriveranno... C'è anche una padella qui. Arriveranno... Però dobbiamo stare così divisi? No però eh. Per favore. Siamo così divisi. Ehi ehi. Morelli? Ehi ehi. Arrivo piano piano. Ma ti sparo se entri in casa mia. Devo Morelli. Sento freddo. Mi hai chiuso a chiave? No non sto trovando... Gli achievement giusti per l'M4. Voglio il calcio. Gli achievement. Gli achievement. Non si chiamano achievement? E sparano. Come si chiamano? No attachment. Attachment. Vabbè uguale. Gli achievement e attachment. Mongoloid. Non avete sempre due per noi? E io sto usando il USS. Ah. Cazzo. Taccalo dal USS e passa. Guarda potresti farlo. Lo farei. Che poi metti il mirino del USS nel turbo o diventa una merda tutta. Esatto. E quindi è colpa del mirino. Ehm. Andrebbe a ripartire il gas a breve. Prendo la balestra? Oh in 40. Perché le dito come Beppe Grillo? È una cosa impossibile. Prendo la balestra? Morelli ti stai riposando? Ho vinto ma. Col fucile incastrato. Eh io sono un po' stanchino visto sto qui. Beh se voi due siete qua allora io me ne vado da qua. Tutto. Quindi se muori nessuno ti tira su? Vado nella casa qua di Fionco. Non c'era l'altra col tetto no? Eh? Ho sparato a sud. Sanpei? Ho fatto ridere Paffina. Ciao Paffina. Adesso gli sparo. Dov'è? Dov'è chi le strulls? Stanno sparando anche a sinistra verso est. E mocca arriva il gasso. Tiri tiriti tiriti. Tiri tiri. Tiri tiri tiriti. Tiri tiriti. Tiri tiri. Tiri tiriti tiriti. Tiri tiriti tiriti. Tiri tiriti. Tiri tiriti. Ci si scrive così. Faccio piede perno. Quindi perno. È vero con il pene perno che fa il buco. C'è uno gli sparo. Dov'è? Non è vero la chiesa. Burlooooneee! Aaaaaaaaaaah! Che ridere che mi hai fatto Marco! Arriveranno questi scugnizi o? No sono già tutti morti erano a sinistra Ma sono in 35 come è sto sinistro? Eiamo un Innea E dove andiamo? A Nord E dai andiamo a Nord allora Dice che è una saggia ai destri Stanno sparando da destra Questo è un... cos'è? Un SKS Sì sì, abbiamo guardato tutti a sud, adesso sono tutti a nord, imboscatissima Tutti alleati. A nord qualcuno ci sarà Non è possibile erano tutti dietro, non ci credo Ehi, ehi C'è colpo singolo, vero? Abbiamo un numero telefonico da Bologna, ma io adesso non posso rispondere Questo è il trattorino, una macchinina Queste case sono chiuse Ah no, sono aperte Mi puzzano un pochino No, sono i balconi aperti Stanno sparando da sinestra Sinergo Da sestra A strafe Ciao Morelli Dai dai, mi raccomando Ti avrei preso una macchina e mi sarei fatto... Piondato Ma dove stiamo andando poi? Perseguendo gli ezzari No perchè la stessa è proprio una merda, è proprio sulla montagna E allora, corriamo così in campo aperto, scusa Poi ci mettiamo qua, in cima alla montagna Vida del cazzo stare in cima E' svantaggioso Eh no Non vedi quelli sotto Sparano da sopra Piondato 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 Aspetta che ha ripartito il cazzo Fiammiamoci qua un attimo Ma c'è la gente che spara qua E a me non avevo una parte coperta Qua in mezzo io in realtà A parte davanti lì Eh qui, siamo coperti almeno da una parte Ah guarda che c'è un bella trincea Eh ma se spariamo questi qua su li ciulliamo tutte le armi Qua dentro Prima di poi dover ricorrere un'altra volta Sono vicini qua Senti da sotto come sparano anche Sì sono a est su destra Siamo attenti anche ad altre zone Ehi Ah l'ho visti Credo Ma qui sopra non c'è un gatto di nessuno Però dove vengono un ghiazono? No Eh l'avevo sentiti sopra prima Ah l'ho visto Sono davanti a me a nordeste Eh sei lontano però moro Ho capito, avevo detto seguitemi Ma lì c'era un posto tanto carino Ho capito ma poi bisogna fare le corse Non possiamo lutare se uccidiamo qualcuno C'è gente li vedo Dove? Di esserci gente a... Ovest Non mi sento di spararli col WSS però Più o meno lontano Il lock 10 mesi grazie mille il lock Eh ma evitano tanto col WSS non li prenderei mai Tanto dobbiamo andare lì eh? No dobbiamo andare qua a nord Ah già è vero Si 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 E' scomparso questo qua Vieni entra nella safe Quando ci stanno i sparanti Ma entri nella safe vado giù a morire Siamo proprio sulla montagna Proprio in cima Non so come sparano qui Devo andarlo a uccidere Quanto? Qui potrebbe essere... AHHHH Signor Mi hanno sparato L'ho visto Mi raggiungisci Eh mi nascondo qua dietro io Quante bende avevo porca Me ne sono accorto adesso Mi hanno sparato 73 colpi però Era qua sotto era Tirami su Lezzar tirami su prima Ma ci mori pure tu Ma chi arriva Si è qua E' lì Sono in due sono Marco? Eh mi sparano Non so come devo fare una corsa Vado tirarti su Vedo ma... No è qua E' la terra è E' la terra Da che parte sono l'Ezzar? Sono qui davanti a noi Vedo anche qui Guarda che ci sta sparando col cecchino Aia Andiamo su andiamo su Vabbè ce l'ha... Tu sei ancora... Tirami su da qui perchè ci stavano sparando da... Cazzo se rigassa anche Tirami su Eh aspetta che mi sto curando anch'io perchè Con colpo sono veramente andato Ma erano sotto di voi? Fermo 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 Ce n'è uno sotto Perché non ti stila su? Arrivo... Aia Ho capito ma... Ho capito ma... Sono in mezzo agli alberi? E' qui sotto eh E' niente Sono ovunque solo Guarda te che l'ho preso 97 volte con questo test Io ovunque erano Quello di prima l'ho colpito 7 volte che era girato E si è girato ma ha ucciso Guarda come cazzo il cadavere di loro In mano la K L'avevo buttato giù bro il vento Ma... Ma... Che cacchio Guarda se avessi avuto la K era giù E invece era il VSS del cacchio E niente amici Eh che dobbiamo fare Domani è Halloween Andiamo qui a... A fare le live Domani sera probabilmente no Vedremo domani sera comunque domani mattina sì Vedremo chi c'è Domani mattina sì Domani sera non è certa Se c'è qualcuno la fa Se no altrimenti Lasciamo festeggiare Perché festeggiare è bello Comunque ci vediamo È vero È vero Esatto In caso domani pomeriggio Poi c'è la live di NVIDIA Esatto E lì vi diciamo se c'è la sera o no Esatto Quindi alle 3 Seguiteci nel canale NVIDIA GeForce IT Ma intanto ci vediamo domani mattina Forse anche Anonimazione Anonimazione Che storia Grazie mille Grazie Quindi passate dal gatto e a domani Ciao bello Passate dal gatto e gli fate un dito medio in chat però Mi raccomando Incredibile Dovete riuscire voi Fate asterisco Dito medio asterisco Domani